finché non torna gesù cristo la via della croce è la via più breve e più veloce per la salvezza spirituale di noi stessi e del prossimo la via della croce è il passo glorioso di cristo e degli esseri cristici giordano bruno l'hanno messo a ruogo alessandro conte di cagliostro che era un altro amico nostro l'hanno chiuso a san leo e torturato il vecchio degli antichi giorni gli hanno aperto la testa e gli hanno tolto il cervello barat è dovuto fuggire a piedi dalla atlantide fino alla valle dell'indo a piedi durante gli sconvolgimenti il maestro dei maestri re dell'universo lo hanno messo in croce inchiodato raga hanno inchiodato coi chiodi ok prima l'hanno torturato in maniera in maniera l'hanno torturato in maniera assoluta leggetevi la caterina emmerich le visioni di santa caterina emmerich sulla passione di gesù voi piangerete voi piangerete piangerete perché capirete e poi lo hanno inchiodato dopo la tortura coi chiodi raga con i chiodi e il martello ma sulle mani e i piedi ma ci pensate quello che significa ecco e l'hanno hanno ridicolizzato e vituperato e maltrattato i grandi la via di cristo da cristo in poi perché vedete prima c'è stato il buddha krishna rama e hanno vissuto in maniera diversa l'espressione della cristica coscienza non completamente diciamo è stata espressa ma nella pienezza dei tempi è arrivata la perfetta incarnazione della coscienza cristica in gesù ecco da gesù in poi coloro che vogliono seguire il sentiero che lui ha tracciato devono portare la croce e soffrire ragazzi purtroppo è così quindi noi possiamo tutelarci possiamo diventare anche immuni al mondo ma la sofferenza ci accompagnerà chi in un modo chi in un altro sofferenza fisica sofferenza sentimentale sofferenza di disadattamento sociale sofferenze di vario genere tipo ma la croce la croce chi vive questo sentiero se la deve mettere nella zucca che la croce fa parte di questo fa parte di tutto questo è necessario che sia così poi lui ritorna e allora poi festeggiamo